Carmi Naburana ha chiuso il Terre d'Arizzo Music Festival 2017 al Teatro Petrarca. Il festival nei mesi di luglio e agosto ha portato musica di altissimo livello in tutta la provincia, in particolare in città nella sezione Arizzo Organ Festival, con sei concerti dedicati alla musica d'organo nelle chiese monumentali. Il cartellone si è concluso con questa famosa cantata scenica. È un onore per noi essere in questo teatro magnifico, abbiamo fatto un'esecuzione al massimo delle nostre possibilità, sono contento perché ho visto una risposta del pubblico veramente entusiasta, sono veramente felice. Non è un consuetudine trovare un teatro pieno come questo, veramente sono contento. Fare questa musica richiede un'energia sempre pari a mille, la musica nasce da sola l'energia da questa musica, e io sono contento perché mi sembra che sia le percussioni, l'orchestra che il coro abbiano dato un'ottima prova, e quindi sono felice e una bella musica. Abbiamo voluto però partecipare con entusiasmo a questo progetto, perché era un progetto per riunire nel nome della musica e del canto dei cori di non professionisti, e per cominciare un nuovo ciclo anche con questi bambini che sono partiti praticamente quest'anno scolastico, i più piccoli, perché il ciclo si rinnova a partire dalle terze elementari e questi quest'anno arrivano in terze elementari. Avevamo qualcuno dei più anzianotti, ma soprattutto quelli che partono. È un progetto che abbiamo nelle scuole qui di Capriglia, quindi in provincia di Arezzo proprio, per educare i nostri giovani alla musica e alla musica eseguita fin da piccoli. e così saranno il pubblico del teatro di domani.